5.53, no, no, 53 no, 54, 54 mi rimetto all'aula, 5.7 favorevole, 5.50 contrario, 5.57 favorevole, non è segnalato, 5.5 contrario, io ho gli identici, 5.6, 5.9 mi rimetto all'aula, 5.11 contrario, 5.59 favorevole, 5.60 mi rimetto all'aula, 5.01 contrario, 5.051 contrario, 5.10 contrario, 5.10 contrario, 5.51 favorevole, 5.54 mi rimetto all'aula, 5.7 contrario, 5.50 mi rimetto all'aula, 5.5 favorevole, 5.6, 5.9 mi rimetto all'aula, 5.11 favorevole, 5.59 favorevole, 5.60 favorevole, 5.01 contrario, 5.051 favorevole. Grazie. Allora, Governo? Conforma ai relatori di maggioranza. Grazie. Va bene, cominciamo allora con l'articolo 5, andiamo al 5.3. Vi do a ritiro parere contrario di Commissione Governo, contrario anche dei relatori di minoranza. Nessuno chiede di intervenire alla votazione aperta. Micillo. Micillo. Nardi. Ci siamo? Schirò. Burtone. Bene.